Ci sono pazienti che soffrono di asma e pazienti che soffrono di BPCO, ma ci sono anche delle situazioni di overlapping tra le due patologie. Anche di questo se ne è parlato a Napoli in occasione della 43esima edizione del congresso nazionale dell'AIPO, l'associazione italiana preomologi ospedalieri, e noi abbiamo approfondito l'argomento con il professore Gennaro D'Amato, responsabile del gruppo studio asma BPCO e allergologia dell'AIPO e inoltre coordinatore della commissione ministeriale ambiente e salute respiratoria. Allora professore, dicevamo nel lancio di questo overlapping tra le due patologie, chi sono i pazienti maggiormente affetti da questa combinazione? Generalmente si tratta di soggetti asmatici che ahimè fumano oppure che vivono in zone molto inquinate. In altri termini i soggetti asmatici se si curano bene, se anche evitano di inalare fumo e agenti dell'inquinamento atmosferico possono veramente star benino. Alcuni soggetti che si mettono a fumare tendono ad andare verso la broncopatia cronico-ostruttiva, però fermandosi a una fase intermedia che è appunto detta ACOS, di sovrapposizione delle due forme. In altri termini si cambia il panorama di questi soggetti perché insorgono altri tipi di infiammazione che tendono a essere aggravate. Questi soggetti tendono ad avere più frequenza di asma, di tosse e di sintomatologia respiratoria. Sono soggetti quindi che non possono essere trattati come dei semplici BPCO, soltanto con dei broncodilatatori, siano essi beta 2 stimolanti che anticolinergici, che in termine tecnico significa farmaci, che sono in grado di ampliare le vie aeree e di ridurre il rischio di intrappolamento dell'aria e quindi di evoluzione verso l'enfisema, ma devono essere trattati anche con corticosteroidi perché in fondo si tratta di soggetti con infiammazione delle vie aeree che non si può trattare soltanto con dei broncodilatatori. Ecco, infatti la cosa che emerge maggiormente e che preoccupa sempre di più non solo il paziente ma anche lo pneumologo è proprio lo scarso controllo della sintomatologia di questi pazienti. Esatto e in questo contesto noi abbiamo lanciato un messaggio proprio in questo congresso, siamo estremamente preoccupati della alta frequenza di mortalità nei giovani per asma bronchiale. Stiamo osservando tanti giovani che non si curano decentemente, adeguatamente, ma soltanto con broncodilatatori short-acting, cioè soltanto al momento quando invece l'asma è una patologia seria anche se lieve perché all'improvviso può avere appunto delle riacutizzazioni che talvolta possono essere ahimè fatali e quindi è un messaggio che noi vogliamo lanciare, stiamo cercando di verificare il perché di tanti decessi legati al non controllo dell'asma perché non passano ancora messaggi educazionali corretti. Il soggetto asmatico non deve preoccuparsi della patologia se si cura bene, se modifica il proprio stile di vita, evita di fumare, evita di stare in contesti inquinati e appunto si cura per bene. Anche perché dobbiamo sottolineare che non si tratta soltanto dell'inquinamento outdoor che può comportare queste patologie ma anche di inquinamento all'interno dei luoghi chiusi, quello che viene definito indoor, perché molte volte non si tiene conto di questa duplicità. Esatto, diciamo che l'inquinamento outdoor può entrare all'interno delle abitazioni, però consideriamo che la vita di un soggetto normale generalmente si effettua soprattutto all'interno di ambienti confinati. E ahimè esistono ancora troppi fumatori, ancora troppi giovani che fumano e che non soltanto danneggiano se stessi ma danneggiano anche i conviventi. Tanto per dire i bambini che convivono con fumatori difficilmente potranno ottenere un miglioramento della sintomatologia se non si evita di fumare nel contesto, nelle famiglie in cui vivono. Professore, vogliamo sottolineare anche il fatto che state lavorando anche insieme a Federasma per poter trovare delle soluzioni congiunte a questa problematica. Cosa ci può dire? Ecco, diciamo io sono estremamente grato per l'aiuto che sta dando all'Aipo, Federasma, è un'associazione di pazienti estremamente attiva, fatta di volontari che veramente vanno lodati perché tendono a essere vicino al paziente e comunicano alle società come la nostra addirittura i casi di peggioramento. Noi come medici cerchiamo di aiutarli interagendo con Federasma, c'è anche una interazione online attraverso i social networks, noi adesso possiamo vedere anche i volti dei soggetti che addirittura stanno in near fatalasma oppure appunto sono stati ricoverati per asma grave e cerchiamo di verificare perché si è verificato questo, perché questi soggetti appunto giovani magari non si sono controllati bene dal punto di vista farmacologico o ambientale e quindi Federasma è veramente benemerita per questo aiuto che ci sta dando, così come anche a livello ministeriale nella interazione con GARD che è quel gruppo di studi appunto che si interessa proprio della patologia respiratoria.